Dopo i fasti e la modalità di Pitti Immagine Uomo, a Firenze arriva Pitti Bimbo. E anche in questo caso, come per Pitti Uomo, il tema è il grande cinema, come si può ben vedere da tutto l'allestimento, sia esterno che interno degli stand. Inutile dire, come sempre del resto, che c'è molta più offerta per le bambine rispetto ai maschietti. In effetti, anche questa manifestazione si potrebbe chiamare invece che Pitti Bimbo, naturalmente Pitti Bimba. Ma fortunate le mamme delle femminucce, appunto, come me. E allora spazio alla fantasia con Pitti Tullegale e Merletti per tutte le piccole aspiranti principesse. Perciò, care mamme, se avete femminucce, potete veramente sbizzarrirvi nel vestire e agghindare le bimbe con lo stile che più vi piace. Stand fiabeschi coloratissimi e super ricercati fanno da cornice alle tante collezioni delle diverse aziende e degli stilisti presenti in fiera. Quanto alle mamme di maschietti, beh, insomma, guardate il lato positivo della cosa, se non altro risparmierete. Anche lo stile più sportivo, street e urban, si impongono nell'offerta della fiera, anche se in maniera, devo dire, in maniera minore, ma sempre con oggetti particolari e originali. Così come la moda dei grandi, anche quella per piccini necessita dei suoi accessori. È tempo di andare! A presto con le prossime avventure di Eliscovery!